Gli agenti della questura di Nuora hanno denunciato in stato di libertà un uorese per il reato di minacce e maltrattamenti contro la moglie. L'episodio si è verificato sabato in città. Gli agenti delle volanti sono stati allertati dalla sala operativa che aveva ricevuto una chiamata di aiuto da parte di una donna. Arrivati sul luogo da cui era partita la chiamata al 113, hanno trovato la donna nel cortile condominiale, a piedi scalzi e in pigiama. Agli agenti la donna, ancora fortemente scossa, ha raccontato di essere stata aggredita al marito, prima verbalmente poi con una cintura e con un grosso coltello da cucina con il quale è stata minacciata di morte. Con la forza della disperazione la donna è riuscita però a divincolarsi e a scappare dando l'allarme. I poliziotti sono entrati in casa della donna dove hanno trovato il marito e il piccolo figlio della coppia ancora visibilmente spaventato dalla situazione cui aveva appena assistito. L'aggressione dei giorni scorsi non sarebbe un episodio isolato. La donna ha raccontato agli agenti di essere stata più volte picchiata dal marito e di non aver mai denunciato il fatto per amore del coniuge e per tutelare il proprio figlio. Gli agenti hanno allontanato l'uomo dall'abitazione di famiglia, lo hanno accompagnato in questura dove ha trascorso la notte. Al termine delle formalità di rito è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di minacce e maltrattamenti nei confronti del coniuge.